Ciao, sono il dottor Antonio Sacchiero, fisioterapista, e ti do il benvenuto in questo video, dove ti darò informazioni molto preziose sul reflusso gastroesofageo nei bambini e ti rivelerò un sistema per farlo scomparire definitivamente e in modo totalmente innocuo e naturale. Partiamo prima di tutto dalla definizione, così creiamo un po' di consapevolezza. Cos'è il reflusso gastroesofageo? È una condizione che determina una risalita di parte del contenuto gastrico, caratterizzato da un alto livello di acidità, all'interno dell'esofago. Il reflusso gastroesofageo ha come principale causa un funzionamento anomalo dello sfintere esofageo, che si apre in momenti diversi da quelli deputati al passaggio del chimo gastrico nel corso della digestione. Il reflusso gastroesofageo può sopraggiungere a qualsiasi età, quindi anche in anni infantili. Il reflusso gastroesofageo nei bambini è un problema frequente, che può essere risolto inquadrando in maniera efficace le cause e la sintomatologia, ma soprattutto individuando quelli che sono i rimedi più utili per dirgli addio. Il reflusso gastroesofageo interessa circa il 70% dei bambini nei primi 4 mesi della loro vita. Nella maggior parte dei casi, il reflusso gastroesofageo nei neonati si risolve spontaneamente entro il compimento dei 12 mesi. Quando questo non avviene, ci si trova davanti a un caso di reflusso gastroesofageo patologico, che può essere dovuto alle seguenti cause. Valvola del cardias poco tonica, deficienze a livello della motilità dell'esofago, problemi di stress, problemi di sovrappeso, malformazioni a livello dell'apparato digerente. Questi fattori possono influire in maniera importante nell'insorgenza del reflusso gastroesofageo nei bambini. I sintomi principali sono bruciore di stomaco, nausea, tosse stizzosa, asma bronchiale, laringospasmo. Come risolvere la situazione?